Vorrei dire che il principale animatore di questo progetto è Carlo Alfredo Crerici che dalla primavera del 2023 ha iniziato la sua riflessione sull'intelligenza artificiale sperimentando, provando, testando anche e soprattutto in prima persona l'efficacia di questo strumento su cui gli informatici lavorano da anni ma che ha visto negli ultimissimi tempi una propulsione esponenziale grazie alla diffusione dei sistemi di LNM presso il grande pubblico. Il libro Cosa me ne faccio dell'intelligenza artificiale, esperienze d'uso in clinica nella didattica universitaria che stiamo per presentare è l'esito appunto di queste riflessioni portate avanti dall'osservatorio e da Carlo a cui rubo una frase che recentemente ho postato su Facebook Continuare comunque a coltivare il proprio orto interiore con disciplina è tra le poche ricette utili per affrontare le avversità Poiché l'intelligenza artificiale, come sottolinea Carlo, evolve nell'interazione e mi permetto di aggiungere, io non interroverò in questo dibattito, una osservazione che nasce anche dalla mia formazione di culturalista nella mediazione che non si può non tener conto della relazionalità e dell'inclusività e del pregiudizio algoritmico del nord del mondo che crea certe volte dei bias culturali che rischiano di escludere fette di cittadinanza Ma soprattutto è l'interazione disciplinare ad essere più che mai necessaria e non a caso oggi qui sono convocate, come già ha ricordato il collega Castellari, scuole e facoltà che raramente si incontrano Medicina e chirurgia, scienza e tecnologia, fisica e astronomia, mediazione linguistica e culturale, giurisprudenza, studi umanistici Attraverso un giro di tavolo alcuni colleghi esperti, che ringraziamo moltissimo veramente per aver risposto con generosità e anche con grande solevoce Devo dire, sono stati molto rapidi al nostro invito, porteranno quindi la loro esperienza prendendo spunto da alcuni dei temi che sono affrontati nel libro Ne abbiamo messi alcuni, l'applicazione e la formazione in campo clinico della intelligenza artificiale, l'aggiornamento professionale, l'analisi dell'impatto delle notizie sulle patologie ricavate dai pazienti tramite l'intelligenza artificiale, le questioni relative all'etica, alla privacy, alla sostenibilità, all'inclusione in ambito sanitario, le esperienze pratiche nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito didattico, l'arte della prompt engineering e il dilemma del jailbreaking Negli LLM, la libertà di ricerca e sicurezza Tutto questo e molto altro è presente in questo volumetto, cosa me ne faccio dell'intelligenza artificiale, molto pratico, ricco di suggestioni e spunti Testimonianza del laboratorio che fino adesso l'osservatorio ha portato avanti in questi ultimi mesi, se non addirittura in questi ultimi giorni Quindi lascio la parola molto volentieri a chi ha avviato questo cantiere, che è una parola che credo sia molto a cuore a Carlo L'idea di cantiere che, ci auspichiamo, evolverà nella interazione e nella interdisciplinarità Quindi grazie Carlo Allora, due parole su Carlo per chi non lo conoscesse È medico e specialista in psicologia clinica e psicoterapeutica Psicoterapeuta, sono un po' agitata per dire, sono un po' emozionata Sì, mi emoziona questa cosa È docente di psicologia clinica dunque presso il dipartimento di oncologia ed emato-oncologia dell'Università degli Stati di Milano Ed è dirigente medico di primo livello presso la struttura complessa di pediatria dell'Istituto dei Tumori di Milano È stato direttore del Master di primo livello in cure palliative rivolto alle professioni sanitarie e agli psicologi In particolare ha studiato l'adattamento psichico alle malattie organiche in oncologia pediatrica Un settore in cui svolge da anni un'attività di psicologia clinica di collegamento Grazie, io credo di essere microfonato e quindi di riuscire a parlare con questo Senza bisogno di quella amplificazione Dicevamo la commozione, io non la lascio trasparire molto volentieri Forse come retaggio dell'educazione maschile Ma sono davvero molto commosso anche perché questa data vi è stata non fatta scegliere Ma un po' così proposta come unico finestra in cui io avevo possibilità di non essere ricoverato in ospedale Ho passato dai primi di agosto a pochi giorni fa Un'adegenza in interrotta all'Istituto dei Tumori per tre crisi successive Da cui non immaginavo di riuscire a recuperare Chi mi conosce mi ha accompagnato anche con affetto, attenzione, curiosità anche per questo itinerario bizzarro Sa che ogni volta abbiamo provato un po' a scommettere in più Quindi oggi siamo sì a parlare bene della tecnica Perché figurarsi, io sono vivo grazie alla tecnica medica Sicuramente questo non lo posso negare Ma non siamo tanto a celebrare trionfi quanto a chiederci In che cosa è possibile un miglioramento nella nostra pratica clinica Quindi assistenziale Nella pratica didattica dell'insegnamento E magari anche nella nostra vita quotidiana Andare contro mano spesso permette di vedere delle cose da una visione diversa Essere docente e essere medico di solito dà un'angolazione diametralmente opposta da quella del paziente Un paziente che si sente fare una diagnosi nel maggio 2023 di Timoma Una malattia un po' strana, piuttosto singolare E nel febbraio 2024 di recidiva metastatica diffusa Io non immaginavo di essere vivo a Pasqua sostanzialmente Poi Augusto Caraceni che dirige il nostro ospice sa che io sbaglio, sono un pessimo medico Ma l'orizzonte era più o meno questo Che cosa ha comportato questa riflessione? Il fatto di cercare di chiedermi in che cosa abbia senso oggi Sospeso temporaneamente l'attività clinica Quale ruolo però abbia un docente Un docente della Stata di Milano E che osservatorio mi possa offrire L'essere paziente Rispetto all'organizzazione di ciò che Aiuta a curare Anche perché visto che come dicevo sono qui Farò tutto quello che posso per contribuire A questo dibattito e anche ad un'azione Quindi vi ringrazio Per l'entusiasmo con cui c'è stato questo sostegno Per l'osservatorio Quindi che non è una storia solo diciamo teorica o di carriera Ma è una storia che nasce da una prospettiva di contatto con una realtà molto precisa Curiosamente la storia del mio timone È coinciso con la storia dell'affermarsi pubblico di questi sistemi di intelligenza artificiale Che in anni passati Io che ero ignorante, non faccio il professore di informatica Vedevo volare sopra la testa come macro progetti super finanziati Di omics, proteomiche, big data Quindi questioni da informatici, da programmatori, da strettamente da tecnici Mentre abbiamo a un certo punto capito E qualcuno l'ha capito con una velocità straordinaria Il Vaticano l'ha capito in anni ancora non sospetti Che questa roba riguarda tutti Perché riguarda tutti? Perché questi sistemi Dall'essere governati da dei sacerdoti speciali Che parlano un linguaggio speciale Vengono governati dalla lingua Dal linguaggio con cui si governano normalmente da relazioni E questo è straordinario Perché ci ha riportato il problema nella nostra vita quotidiana E anche delle potenzialità E la necessità di armonizzare il dialogo fra scienza e tecnica Quindi La questione è perché siamo qui oggi Fra provenienze disparate Perché l'intelligenza artificiale è anche una questione di linguaggio Moltissimo È di dialogo tra discipline Di interazione tra essere umano e macchina E ci sono però delle barriere che sono in parte emotive La divisione immediata fra chi ama la tecnologia E chi ne è terrorizzato Con una reazione evidentemente su una base irrazionale Ma anche delle basi retoriche Per cui questa tecnologia ci viene promesso Che ci salverà oppure ci dannerà E questi sono degli aspetti su cui Soltanto una maggiore conoscenza ci può portare ad usare In un modo più efficace In più Questi strumenti possiedono Delle possibilità che sono anche in parte inaspettate Non frutto soltanto di programmazione Ma anche frutto di qualche cosa che si modella Sulla base dell'uso E quindi prende forma man mano che viene utilizzato Bisogna dire che una questione su cui si avverte una necessità di incontro e di dibattito È ad esempio la necessità di avere una bussola Se non una mappa per orientarsi in questo terreno Alcuni atenei ad esempio stranieri Prendiamo anche in College di Londra Uno fra tutti Si sono mossi già in epoca molto precoce Dando linee guida Indicazioni Generalmente non proibizioni Ma dando suggerimenti e investendo informazione Cioè cercando di capire che cosa si sa E cercando di svilupparlo contemporaneamente Esempio altro Torino Che ha fatto una fase piuttosto precoce Un documento piuttosto chiaro Io questo documento non l'ho visto nel nostro terreno Ma evidentemente è una di quelle esigenze A cui stiamo arrivando E se c'è un dibattito E appunto un'idea di cantiere Proprio perché l'idea è che Alcune persone ne sanno moltissimo Ma c'è tutta una competenza Una fascia di conoscenze Che si svelano Si smascherano Nell'uso quotidiano Quindi sostanzialmente Abbiamo bisogno di sviluppare anche dei modelli Che siano collaborativi E anche integrandoli a modelli Che sono competitivi Che sono l'altra faccia della medaglia Pensiamo come è la logica Dell'intelligenza artificiale A livello universale Dove invece ci chiediamo l'Europa Che potere avrà rispetto a poteri e legislazioni In cui il controllo dei dati Diventa di fatto un bene essenziale primario Con enormi disponibilità Che l'Europa non può mettere in campo Qui voglio arrivare invece A un punto molto pratico Che riguarda la distanza Fra l'aspetto retorico E la realtà quotidiana L'esperienza curiosissima Di paziente Non facciamo vedere le immagini Perché inutilmente appesantirebbe Ma ho numerosissime schermate Di sistemi Ad esempio Il fascicolo sanitario Regionale Che non funziona Si inceppa Il tacquino Non può essere aggiornato Lo speed viene cambiato Perché la mia privacy Vale di più Del mio diritto a curarmi C'è un aspetto curiosissimo Un aspetto curiosissimo Le mie immagini Radiografiche Che i clinici Hanno bisogno di confrontare Su cui hanno bisogno di ragionare Subito Sono disperse in dischetti Mancano solo i piccioni I viaggiatori Questo sistema È fatto per il controllo Non è fatto per l'ausilio Alla diagnostica Alla clinica C'è un problema centrale Non c'entra ovviamente Alla tenere di Milano C'entra come è stato costruito Un sistema E come verrà modificato Ma guai Se si abdica Da una sorveglianza Rispetto a questo Naturalmente le promesse Sulla diagnostica L'efficacia sulla diagnosi radiologica Sono stupende Ma ci dobbiamo chiedere C'è un recente articolo Il British Medical Journal Se l'investimento principale In intelligenza artificiale Quello più fruttuoso Non sia Nello sgravare il medico Di compiti che non sono medici Che possono essere fatti dalla macchina Perché il medico Non vuole essere sostituito Da un algoritmo Ma vuole Non impiegare Una quantità di ore Sovrabbondanti In un mestiere Che medico non è E questo è un problema Di efficacia efficienza Naturalmente che Smuove Mette in movimento Una riflessione Una ricostruzione Di diritti Alcuni evidentemente Per fortuna Rivalutati Sul tema Del diritto alla salute Diciamo I riflettori Sono Sempre un po' Meno puntati Di quello che servirebbe E dall'altra Anche pensare Che non siamo casualmente Alla Università Statale Milano Perché All'Università Statale Milano In un'epoca Cupissima Adesso abbiamo Altri motivi sociali Di preoccupazione Ma Nei decenni scorsi Dopo la piega Del terrorismo Ci fu Questo momento Della catele Non credenti Che unì Persone di ogni tipo Di vocazione religiosa Non religiosa Animata Dalla ricerca Di senso Sul tipo Di vita E di mondo Che si può Costruire insieme Superando Le divergenze E le diverigazioni E dove All'epoca Non era cruciale Il discorso Della tecnologia Come oggi Oggi sicuramente Dobbiamo passare Da questo Dibattito Quindi in queste In queste sale In queste stanze Ci riconnettiamo Un po' A questa alta tradizione Ho quasi finito Vorremmo che L'intelligenza artificiale Questo è lo spunto Del libretto Molto pratico Molto esile Scritto Io in un mese Di letto E i colleghi In un mese Di affettuose Telefonate E email Come si può Scrivere un libro Così Il tentativo Però è di rompere Il ghiaccio Rispetto all'applicazione Pratica Ad oggi Ad esempio Se io ho Una relazione Di missione Di 20 pagine La posso dare A chat GPT E chiedere Il signor Clerici Domani Che medicine Deve prendere E nell'arco Di alcuni mesi Questo sistema Dallo Sbagliare Dimenticare L'eparina Che mi deve essere Somministrata Ogni giorno Oggi Centra Al 100% Le risposte Naturalmente Non posso dire Che sia Statisticamente Attendibile Sono un paziente Una persona Ma perché Questa sperimentazione Non possa essere Sostenuta E sistematica Tanto in medicina L'errore Esiste Anzi Sappiamo che L'errore Deve essere Contrastato Ma Lo sgravio In termini di tempo E l'aumento Di efficacia Rispetto alla compliance Del paziente A me E non solo a me Alla luce Dell'osservatorio Sembra Un grande tema Da seguire Sostanzialmente Che cosa? Quindi La proposta È Di aumentare La pratica La conoscenza Dell'uso Gli strumenti Per sostenere Che cosa c'è Di umano Nelle nostre pratiche Che ha bisogno Di essere liberato In termini di tempo Di risorse creative Di risorse mentali E c'è tutto un filone Che mi sta Moltissimo a cuore E ringrazio Non a caso L'ospitalità L'amicizia Di lingue E mediazione Insomma Di questo settore Non medico Della statale Così importante Perché ad esempio Un grossissimo problema Della cura È il problema Dell'accoglienza E della comunicazione Ad esempio L'accoglienza Degli stranieri Su cui da anni Tentiamo di seminare Paolo Caponi Anni fa Fece il testo Sulle cure palliative E la mediazione linguistica Con Silvia Ci conoscemmo Attorno al tema Della documentazione Filmica Per riuscire A rendere Comprensibile L'esperienza Dell'altro Guai sarebbe Se la nostra capacità Di comunicare Venisse affidata Soltanto a strumenti Tecnici E non a una quota Di umanità Liberata Invece da dei vincoli Questa è una proposta Durante la visita Della Neoletta Elettrice Brambilla In istituto Questo tema È sembrato Sia la presidenza Che la direzione generale Di particolare interesse Vediamo Se potremo Avere seguito Anche su questo genere Di progetti Non direttamente Legati all'intelligenza Artificiale Ma che Possono essere Senz'altro Una chiave Molto importante Concludo Sostanzialmente Nella nostra capacità Di costruire Occasioni di incontro Di scambio E quindi di lavorare Davvero come cantiere Potremmo anche Avere delle speranze Come quelle Che mi hanno sostenuto oggi Di venire Di riuscire A fare un intervento Che per me Era così prezioso Vi ringrazio per l'attenzione